Siamo qua nella orta del signor Carmellini Aldo perché ci hanno segnalato che è una cosa che ha davvero dell'incredibile che adesso lui appunto ci racconterà. Mi sono trovato sto cavolo rapa. E' rimasto meravigliato dalle dimensioni di questa, perché era veramente fuori dal normale. Esatto, mi sono lasciato lì così per vedere a che punto ne avevo già racconti 3-4. E come la vedi è enorme insomma, in 70 anni come ripeto non l'ho mai vista in una cosa del genere. E dopo aver appreso appunto questa notizia di questa rapa cavolo gigante andiamo a ricercare delle informazioni scientifiche dal signor Righi riguardo appunto a queste piantine che lui stesso ha venduto al signor Carmellini. Sì, è una sorpresa anche per me perché il cavolo rapa normalmente viene di una pezzatura di un chilo e credo che sia dovuto questo fatto straordinario alla stagione che abbiamo avuto, molto piovosa e non troppo calda, che per questo genere di verdura va bene. Ecco, questa è la mia spiegazione. Dopo logicamente anche chi coltiva la terra fa un buon 50% di successo di ogni pianta. Ed ora andiamo a vedere l'estrazione di questo cavolo rapa gigante. Ecco, siamo qua in cantina a pesare questo cavolo rapa gigante e adesso scopriremo il peso appunto ufficiale di questa rapa gigante. 7 chili abbondanti, 7 chili e 100 grammi.